Studenti e manager in un'unica sala per parlare di lavoro. È quello che avverrà domani a partire dalle 9 nella Facoltà di Scienze e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo. Il Career Day, con partecipazione libera, è definito da Christian Corsi come una giornata ricca di appuntamenti che permetterà agli studenti laureandi e laureati di entrare in contatto con realtà professionali a rilevanza nazionale e internazionale. È il primo appuntamento, un modello assolutamente sperimentale, che rientra nelle attività del nuovo placement dell'Università di Teramo, in cui 30 aziende inizieranno a fare selezione a 50 nostri neolaureandi. Il primo appuntamento si svolgerà come il Career Day alla Facoltà di Scienze e della Comunicazione. È un'opportunità molto preziosa per i nostri neolaureandi perché di fatto faremo incontrare per la prima volta il mondo del lavoro con i nostri studenti. Ci piace creare delle opportunità concrete affinché i nostri neolaureandi abbiano delle opportunità lavorative di crescita concrete e reali. Sono aziende non solo a livello provinciale o regionale, ma anche di appeal nazionale e abbiamo anche imprese internazionali nell'ambito della comunicazione. Stanno per arrivare in queste ore a Teramo dei responsabili di società con sede legali a Londra e in Gran Bretagna. Quindi è anche un'opportunità e un'apertura internazionale che vogliamo offrire ai nostri studenti. Dopo un tavolo di apertura con il Rettore, il Preside e un tavolo trasversale di tematiche sulla comunicazione, nella parte centrale i nostri neolaureandi affronteranno una vera e propria selezione di colloquio di lavoro. Qualora sia positiva, avvieranno già dal prossimo mese stagio e percorsi formativi retribuiti. Ci piace creare opportunità e questa è una delle opportunità più preziose che il placement dell'Università di Teramo offre ai nostri studenti.